Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpale. In un contesto di generale variabilità la Liguria sarà interessata oggi mercoledì e dopo domani venerdì dal transito di due veloci disturbi che provocheranno qualche pioggia, temperature stazionari o in leggera diminuzione. Il dettaglio oggi, mercoledì 11 gennaio, nuvolosità in aumento dal pomeriggio, in serata possibili deboli precipitazioni sparse anche a carattere di isolato rovescio sul levante della regione. Venti fino a moderati meridionali in rotazione settentrionali, mare mosso, molto mosso in serata sullo spezzino. Temperature massime in generale diminuzione lungo la costa tra 12 e 16 gradi, nelle zone interne tra 11 e 13 gradi. Domani giovedì 12 gennaio passaggi di nuvolosità medio alta che determina velature sottili in mattinata, più consistenti dal pomeriggio. In serata formazione di addensamenti per la presenza di un flusso umido, possibili isolati piovaschi. Venti fino a moderati settentrionali in rotazione meridionali, locali rinforzi, mare da mosso poco mosso, temperature pressoché stazionarie, minime sulla costa tra 7 e 10 gradi, nelle zone interne intorno a meno 1-0 gradi. Massime lungo la costa tra 15 e 17 gradi, nelle zone interne tra 10 e 15 gradi. Dopodomani venerdì 13 gennaio mattinata grigia, con deboli piogge sparse, più probabili sul levante. Miglioramento dal pomeriggio con tempo in prevalenza soleggiato. Venti fino a moderati meridionali a levante, settentrionali a ponente. Mare mosso in aumento a molto mosso sul levante, localmente sul centro. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 9 e 11 gradi, nelle zone interne intorno a 2-3 gradi. Massime complessivamente stazionari e lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nelle zone interne tra 12 e 14 gradi. È tutto, seguite aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia. Ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!